7 e 8 luglio a partire dalle ore 21 alla Fagianeria nel museo di Capodimonte, teatro in fabula, quartieri dell'arte e galleria Toledo, produzioni, presenta Troia City, la verità sul caso Alexandros, liberamente ispirato ai frammenti dell'Alexandros di Euripide, scritto da Antonio Piccolo che in scena con Marco Vidino per la regia di Lino Mugano. Lo spettacolo rientra nel programma della tredicesima edizione del Napoli Teatro Festival Italia, la quarta diretta da Ruggero Cappuccio, realizzata con il sostegno della regione Campania e organizzata dalla Fondazione Campania dei Festival, preseduta da Alessandro Barbano. Per il primo anno Teatro in fabula presenta un suo lavoro nella sezione prosa, una sorta di conferma e di promozione del percorso artistico sviluppato in questi anni dalla giovane compagnia. Come spiega Antonio Piccolo, lo spettacolo in programma al festival era un altro, ma così come per ogni altro settore, il Covid ha cambiato i piani. Quando a maggio si è stabilito di tenere la rassegna, abbiamo allora riproposto questo lavoro. Sebbene sia pensato a pianta centrale per spazi piuttosto intimi, non convenzionalmente teatrali, assieme a Lino Musella spiega ancora, abbiamo comunque deciso che era giusto provare ad adattarci alle condizioni obbligatorie dell'emergenza sanitaria. E dunque il 7 e l'8 luglio, a partire dalle ore 21, alla fagianeria nel Museo di Capodimonte, ovviamente.